Ma una donna forte in gamba come la Moratti, io ero sicura che per lei era il candidato perfetto per la Lombardia, avrei detto io, conoscendola. Ma guardi, sicuramente Letizia Moratti ha fatto un percorso nei suoi incarichi con tutto il centro-destra e dal centro-destra ha avuto gli incarichi. Oggi rimango un po' basita che abbia fatto una scelta di campo così spiazzante per se stessa, non tanto per noi, perché ha governato sino all'altro ieri con il presidente Fontana, ha fatto il vicepresidente della regione Lombardia, ha fatto l'assessore alla sanità e sono andati a citofonare a casa, nel senso che non è che ha vinto un concorso, è Letizia Moratti, è stata chiamata dalla politica ed era orgogliosa di poter dare un contributo in regione Lombardia. L'ha fatto, l'ha fatto in questa metà di campo. Oggi trovarla dall'altra parte le devo dire che non è un problema nostro, è un problema suo, della sua faccia, di quello che racconterà, anche perché quando, scusi, l'ultima cosa, però quando ha detto che aveva fatto questa scelta ha adotto il comportamento o meglio le azioni del governo, ecco qua l'ho trovata un po' poco coraggiosa, avrebbe dovuto dire la verità che non è certo riferibile alle azioni del governo che a lei non sono piaciute. Allora, ultima domanda su Radio Sociale.